Aerosol, ultimo atto, vertisce in prefettura Lecco sugli sviluppi della crisi ormai reversibili dell'azienda di Valmadrera specializzata nella produzione di bombolette spray per i settori farmaceutico e cosmetico. All'incontro non si è presentato l'amministratore Giovanni Bartoli. I sindacati hanno chiesto chiarimenti in merito alla procedura di concordato annunciata dalla proprietà all'indomani del Via Libera da parte di Regione a riprendere la produzione. Una scelta che ha vanificato le speranze dei lavoratori e dei loro rappresentanti di vedersi riconosciute entro poche settimane le mensalità arretrate, oltre che di far ripartire la fabbrica. Alla luce di ciò, buona parte dei dipendenti ancora in forza all'azienda ha presentato negli scorsi giorni le dimissioni per ottenere almeno il sussidio di disoccupazione. Ne rimangono una ventina su un'azienda che prima della crisi dava lavoro a più di un centinaio di persone. L'assenza della proprietà, spiegano i sindacati, che ha delegato un tecnico a presenziare all'incontro, è sintomatica del rispetto che queste persone hanno dei lavoratori e delle figure istituzionali. Anche a detta dalle parti sociali l'aerosol è destinata alla chiusura. Non è ancora chiaro quando e se potrà ripartire la produzione. Puntualizzano, cosa che è destinata a far cambiare idea ai clienti rimasti. In più, per riattivare le linee sono necessarie non solo risorse ma anche competenze specifiche. Non si può fare insomma dall'oggi al domani. Il tempo dunque gioca a sfavore. Entro fine luglio si terrà un altro incontro in prefettura. Siamo all'ultimo atto, commentano i rappresentanti dei lavoratori, ma è evidente che le responsabilità di questa situazione sono in capo non solo all'attuale proprietà, che non è ancora nota, ma anche a chi in passato ha gestito l'azienda e l'ha venduta qualche mese fa per poco più di una decina di euro.